Buongiorno, benvenuti alla Rassegna Stampa di oggi, domenica 18 febbraio, vediamo quali sono i temi fondamentali sui giornali di oggi. Tutti quanti i giornali titolano sull'endorsement, pensa tu che sorpresa, di Romano Prodi a Paolo Gentiloni. In realtà Paolo Gentiloni fino a prova contraria non è neanche il leader di un partito, non è neanche il Presidente del Consiglio designato da un partito, però Prodi ha già deciso che lui sarebbe il Premier migliore, ci sta tutto. Purtroppo c'è la democrazia e la democrazia fa sì che ci siano delle persone, cioè i cittadini, che votano dei partiti e questi partiti, il partito che voterà Prodi, che si chiama Partito Insieme, che è di centristi collegati al PD, prenderà 3, 4, 5% a essere generosissimi, cioè una frazione minima di quello che voteranno tutti gli italiani, che consegneranno come tutti quanti pensano al Movimento 5 Stelle, il primato nel proporzionale. Quindi è difficile pensare che oggi uno possa stabilire questi vertici, questa idea che ci sono degli uomini che sanno tutto, dei padri della patria, che decidono chi saranno i Premier. Sul messaggero Prodi, che fa anche il giornalista, scrive che la prima cosa che dovrà fare, appunto Gentiloni immagino, è cambiare la legge elettorale. Allora uno dice, poi perché la gente vota Movimento 5 Stelle? Poi perché la gente diventa populista, come dite voi, ma che in realtà non è, è semplicemente arrabbiata, perché se i governi si devono occupare delle leggi elettorali, le devono cambiare. Prima ha fatto l'Italicum Renzi, che ebbe il 40% alle europee, poi l'Italicum è stato bocciato dalla Corte Costituzionale, poi hanno fatto un'altra legge, quest'altra legge sulla quale stiamo andando a votare oggi non porterà nessuna maggioranza, come è del tutto evidente, a meno che non ci sia un exploit incredibile del centrodestra. Una volta che non porta nessuna maggioranza si ricambia la legge elettorale. Allora non voglio dire che ci sono tante altre cose di cui pensarci, perché la legge elettorale comunque è la legge che si occupa delle regole del gioco con cui eleggere i politici, quindi va anche bene discuterne a lungo, ma non si può discutere solo di questo, è solo quello che secondo me è una roba che allontana i cittadini dalla politica. Se pensiamo, caro Prodi, che il premier Gentiloni, che prende quattro voti e che il suo primo compito sarà cambiare la legge elettorale, allora non c'è il rimborso che tenga, cioè hanno ragione i Movimenti 5 Stelle, dicendo ma che state a fa? Nel frattempo oggi, notizia di oggi, ne escono altri quattro del Movimento 5 Stelle. La cosa straordinaria del Movimento 5 Stelle, per quale io ve lo dico con franchezza, mi accanisco, è perché i 5 Stelle sono degli ipocriti, non i 5 Stelle, non tutti. Questi 5 Stelle, esattamente quelli che sono stati pizzicati, sono degli ipocriti di merda. Chiaro? È molto semplice. Quando io vedo Giulia Sarti e la lite col suo fidanzato rumeno, italiano, che le gestisce i soldi, i rimborsi, che va in procura e che si denuncia una vicenda, beh, allora dico, mi fate schifo, mi fate schifo, posso dirlo? Non il Movimento 5 Stelle, lo dico a beneficio di quelli che ci vedono, anche molti del Movimento 5 Stelle. Ieri ero con un amico tassista, un tassista che era a Roma, ho preso un taxi, che aveva due caratteristiche incredibili. La prima che aveva un quotidiano sulla parte davanti della macchina, il secondo che era il giornale, cioè il quotidiano di cui io faccio il vice direttore, il terzo e che era del Movimento 5 Stelle. Io ho massimo rispetto per gli elettori del Movimento 5 Stelle, ma ne ho minimo per chi ci prende per il culo, come la Sarti che fa Savonarola e poi dopo non riesce a gestirsi neanche il suo fidanzato e neanche i suoi bonifici, vuole gestire l'Italia e non sa fare un bonifico. E quelli che sono comparsi oggi con i tre Photoshop, capito, quello mi sembra una cosa incredibile, Photoshopano. L'altra cosa che trovo ridicola è, ve lo dico con grande franchezza, se c'è una cosa che io non sono è massone, proprio mi sembrano ridicoli, ma non è questo il punto, ma il punto è che trovo ridicolo il fatto che il Movimento 5 Stelle cancelli dalle proprie liste gente che aveva fatto parte della massoneria nel passato e non più oggi. Sì c'è scritto nel loro codice etico, ma oggi nel passato potevano esserlo. Detto questo ne hanno trovati quattro di massoni e quattro massoni verranno fatti fuori. Se il Movimento 5 Stelle continua così, nonostante i voti che potrà prendere, avrà un gruppo di 10, 12, 13, 15 parlamentari che sono stati espulsi dal Movimento 5 Stelle e che faranno parte del gruppo misto e che non verranno mai espulsi dalla politica. Quindi se continua così, forse un governo ci sarà, un governo gentiloni, delle larghe imprese, con questi responsabili che sono gli irresponsabili del Movimento 5 Stelle che essendo nel limbo del gruppo misto potranno votare per il governo. Altra cosa incredibile oggi sul Corriere della Sera, quel verbale di Carabinieri per i quali la moglie di De Falco è andato dai Carabinieri a denunciare il fatto che il marito, quello che incalzava schettino, cazzo muoviti, beh insomma si comportava in maniera altrettanto brutale con la moglie e la figlia. Anche questa però è una storia molto strana, ve lo devo dire, De Falco è il candidato del Movimento 5 Stelle, ma insomma se l'UE ha usato violenza nei confronti della moglie e della figlia, poi si legge nel pezzo che la moglie non lo ha denunciato. E allora che cosa ci state raccontando? Un soffietto di procura per una lite familiare? Beh sì, ci può stare che De Falco litighi, però insomma l'idea che si sputtani una persona con una roba che poi non è diventata una denuncia, stiamo molto attenti perché se c'è una denuncia bisogna verificarla, ma se non c'è neanche una denuncia non possiamo neanche verificare quello che non c'è, ma sui giornali De Falco che fa violenza nei confronti della moglie e della figlia è comparso, Corriere della Sera. Ecco questo secondo me è da mettere sullo stesso piano di quello che è avvenuto al figlio di De Luca. Pensate che i De Luca non siano dei maneggioni? Io sono convinto che siano dei maneggioni come fa la politica al sud, indipendentemente da qualsiasi altro partito, ma la cosa che è successa a questi maneggioni è che un sito, fanpage, prende un camorrista, un ex camorrista, un pentito di camorra, insomma, e lo usa come agente provocatore. Già questo mi sembra una cosa incredibile, tu prendi un camorrista, lo fai venire da me, Nicola Porro, e parli con Nicola Porro, mi riprendono quando parla con me e dicono Porro coi camorristi, ho capito, ma è l'agente provocatore, serviva questo a metterli in contatto. La cosa che avviene è che parla col figlio di De Luca di appalti sulle coballe, il figlio di De Luca ovviamente non è responsabile di queste cose perché è assessore al bilancio a Salerno e dice beh vediamo e si dà un po' da fare perché il padre invece come presidente della regione può fare. Allora che due imprenditori vadano da un commercialista che nel frattempo è anche assessore e nel frattempo è anche figlio di De Luca e gli chiedono consigli su come si gestiscono i rifiuti a Salerno, anche qui, conflitto di interesse a parte, ci sta. La cosa che non ci sta, che è il terzo elemento di questa inchiesta, è che pare che l'intermediario con questo camorrista, agente provocatore e De Luca sia un amico di De Luca il quale abbia chiesto a questo agente provocatore dei soldi. Però questo l'ho fatto attraverso delle riprese che sono stagliate, riprese e montate, insomma non è del tutto certo, tant'è che oggi Repubblica stessa dice che De Luca arriverà all'archiviazione. Si tratta di una brutta storia, però si tratta anche di una di quelle storie, ricordatevi quando vi parlano degli agenti provocatori, che è tipica del stato di polizia in cui gli agenti provocatori vi provocano e vi mettono nelle condizioni di debolezza per cui potete cadere in fallo, quindi vi dicono ti do dei soldi, tu non gli hai risposto subito di no, ma hai fatto un sorrisino. Ragazzi attenzione al mondo degli agenti provocatori che sognano il Movimento 5 Stelle, io non li critico dunque per i rimborsi, ma per questa cosa nazista, nazista, anzi comunista, Germania dell'Est degli agenti provocatori, che soltanto loro e Gerardo Colombo possono pensare che sia una cosa intelligente. Gli agenti provocatori sono le vite di, avete presente quel film in cui tutti venivamo ascoltati, La vita degli altri, il film della Germania dell'Est? Ecco questo ci deve fare orrore, non il fatto che ci siano 15 scemi che si sono presi i loro rimborsi e li hanno photoshopati. Intervista oggi a Calenda sul Sole 24 ore riguardo il piano per l'Italia, ministro dell'economia, ministro dello sviluppo economico, molto serio, molto liberale rispetto agli standard di questo governo, ma quando gli chiedono se il piano della Confindustria, cioè la crescita del 2% all'anno per i prossimi 5 anni, 250 miliardi di investimenti tra pubblici e privati e il calo del PIL del 20%, Calenda risponde è una necessità. Allora vabbè sono buoni tutti, ma allora sono buoni tutti, allora quando dicono che Berlusconi dice che vuole almeno 30% di debito, la risposta di Calenda sarebbe una necessità, quando il Movimento 5 Stelle dice che bisogna tutelare 8 milioni più poveri, Calenda risponderebbe è una necessità. Ragazzi questo piano della Confindustria è una minchiata, è il peggior piano politico, è la peggiore promessa fatta dai politici, ma perché la peggiore? Non per i suoi contenuti, perché i contenuti sono condivisibili, riduzione del debito, maggiori investimenti, anche se non parla di tasse, ma la cosa che è ridicola è che mentre gli altri politici vengono eletti, questi sono 4 signori che se li sono studiati nelle loro casette a Roma, in cui campano grazie ai contributi di tutte le imprese che si fanno un culo così. Questi sono un partito a Roma di gente che non ha un lavoro nella vita, se non quello di fare proposte elettorali, nelle quali loro non si confrontano perché non vengono eletti, insomma il peggio del peggio, questa è diventata Confindustria, quindi mi viene da ridere quando Calenda è intervistato, non esercita il suo diritto di critica che correttamente esercita nei confronti di tutti i partiti, non lo esercita nei confronti della Confindustria, perché mai? Boh! Scalfari e Minniti oggi è da leggere perché io leggo Scalfari che dice che Minniti gli direbbe che il primo partito alla fine delle elezioni sarà il PD, va bene? Ma c'è un passaggio straordinario, poi parleremo del primo partito al PD. Un passaggio straordinario di questo pezzo è quando Scalfari dice che Minniti è un suo caro amico. Recentemente ho letto un'intervista di Scalfari a Minniti in cui Scalfari diceva che non conosceva Minniti e che l'ha conosciuto per quell'intervista, anzi l'aveva chiamato al Ministero perché aveva bisogno di un favore. Questa è l'intervista che ho letto recentemente sei mesi fa, nove mesi fa, oggi sul Repubblica scopro che in nove mesi Minniti e Scalfari sono amicissimi. Vabbè, quello che succede tra vecchietti che ovviamente possono essere anche un po' rintronate a una certa età, ma Minniti non dovrebbe esserlo e dice a Scalfari che il primo partito sarà il PD. Giro due pagine di Repubblica e che cosa leggo? Franceschini, altro grande esponente del PD, compagno di partito di Minniti, alleato di Minniti nello stesso governo e che cosa dice Franceschini? Andremo KO perché la destra rischia di vincere tutti quanti i collegi uninominari. Mettetevi d'accordo Minniti e Franceschini, oppure Repubblica mettetevi d'accordo tra Scalfari e Franceschini. Ultima cosa fondamentale per noi che facciamo, che usiamo le automobili, soltanto Bonora oggi sul giornale si accorge una cosa che è uscita ieri sulle agenzie e cioè che sapete quanto spendiamo e diamo di tasse per usare le nostre auto? 73 miliardi di euro, cioè l'utilizzo dell'auto porta nelle casse dello Stato 73 miliardi di euro di tasse. Allora questa è una gigantesca montagna di risorse che passano da noi allo Stato. Quando si dice che lo Stato ci tassa al 40-43%, si dice, nelle nostre aliquote marginali, si dice una balla, perché in realtà oltre a quelle tasse dirette sul nostro reddito ci sono tante altre tasse invisibili che noi in continuazione paghiamo. Quando ci azzardiamo a prendere una macchina sappiate che contribuiamo per 73 miliardi agli introiti dello Stato, 73 miliardi di euro. Condividete questa zuppa se vi piace e sul sito nicolaforro.it vi metterò più tardi un pezzo in cui spiego, secondo me, dal mio punto di vista, come tutti dicono che gli altri sono populisti, ma loro per primi sono populisti. Parlo di Gentiloni, Confindustria, Lorenzin, tutti quelli che accusano Movimento 5 Stelle, Salvini, la destra, la sinistra di essere populista, alla fine populisti lo sono più degli altri. Ve ne parlerò più tardi sempre sul sito nicolaforro.it, condividete questa zuppa se vi piace, buona domenica a tutti quanti, ciao!